Ciao ragazzi benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo di criptovalute, nello specifico parliamo di CRO che è il token di Crypto.com che si dimostra ancora una volta uno dei token più interessanti con più notizie a riguardo che sappiamo possono avere poi importanti impatti su quella che è la quotazione del progetto, facciamo anche un'analisi di quelle che sono le aspettative per quanto riguarda la quotazione appunto di CRO di Crypto.com ovviamente quali possono essere poi le aspettative per le prossime settimane appunto sempre per quanto riguarda la quotazione dicevamo ci sono tante notizie, prima ovviamente di andare a vederle ti ricordo la playlist sul canale dedicata alle criptovalute e le valute digitali trovi anche alcuni video che ho già fatto su appunto CRO.com, uno di questi lo trovi qui, vedi CRO, buy adesso, pump e target price quindi se ancora non l'hai fatto te lo lascio qui in alto, mi raccomando guardalo e lasciali ovviamente anche un like inoltre come sempre ragazzi prima di cominciare il video vi chiedo di iscrivervi al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche dei prossimi video, delle prossime live che faremo sul canale e vi chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, questo come sempre è molto importante per spingere insomma per far vedere il video a più persone direi quindi come sempre ora sigla e poi cominciamo ricevamo quindi tante notizie su criptovalute in particolare appunto su CRO di Cripto.com la prima la prendiamo dal sito criptovaluta.it ed è l'investimento di oltre 6 milioni di dollari fatti da Cripto.com a livello di campagne pubblicitarie sappiamo che Cripto.com è molto attivo per quanto riguarda sponsorizzazioni e partnership sappiamo che nella settimana scorsa è acquisito i diritti relativi al naming del parasport dei Lakers chiamato ora Cripto Arena e ora pare che ha acquistato da pare che appunto Cripto.com abbia acquistato 30 secondi di spot per il Super Bowl 2022 che sappiamo un evento seguito a livello globale sappiamo effettivamente quello che può essere poi l'impatto di uno spot e la visibilità che questo può dare poi a un exchange come Cripto.com che sta entrando pesantemente nell'ambito appunto dei token di criptovalute e sappiamo appunto l'impatto appunto che un investimento del genere può avere sulla sua così conoscenza la parte appunto di chi investe nelle criptovalute quindi sicuramente ripeto investimento che dimostra ancora la disponibilità di Cripto.com e di quanto effettivamente ci sia la volontà appunto da parte di questo exchange di crescere e di andare a così fare sempre più concorrenza su token su dati exchange come ovviamente Binance che in questo momento è ancora quello con la maggiore capitalizzazione questo per così per raccogliere per mostrare quanto è in questo momento espansiva la progettualità di Cripto.com se invece andiamo a vederci intanto come si sta sviluppando la quotazione di CRO quindi il token di Cripto.com effettivamente graficamente vediamo come c'è stato questo massimo si è quasi sfiorato l'obiettivo del dollaro la quotazione di un dollaro il rintracciamento che ha portato un po' tutte le cripto al ribasso delle scorse settimane sappiamo insomma che sono successe molte questioni a livello globale sappiamo che gli investitori hanno un po' scaricato gli asset se vogliamo più rischiosi come così sulle sulle voci comunque sulle problematiche legate anche alla pandemia questo ha portato ad esempio il la quotazione di CRO intorno ai 48 centesimi di dollaro mentre in questo momento nel quale stiamo registrando il video CRO spinge oltre i 60 centesimi in questo momento quota 63 e 55 sicuramente quindi comincia a essere una spinta veramente importante dal basso per un rialzo che può portare veramente come obiettivo minimo secondo me il raggiungimento della quota dei 70 centesimi di dollaro e questo il raggiungimento di questa quota effettivamente potrebbe portare poi un movimento ulteriormente rialzista andando alla ricerca di ritoccare quei massimi che dicevamo prima intorno ai 95 centesimi di dollaro anche il dollaro il dollaro sarebbe sicuramente una soglia psicologica veramente importante per un progetto però che in questo momento sta effettivamente catalizzando molto interesse questo perché sappiamo ripeto per quanto detto prima che l'exchange che detiene insomma questo token è un exchange che sta veramente investendo una valanga di denaro a livello di advertising e sta cercando di acquisire posizioni nell'ambito appunto del mondo degli exchange mondo di exchange che sta diventando particolarmente profittevole ne parleremo poi in un altro video perché ovviamente non possiamo farlo in questo video altrimenti questo video durerebbe veramente tanto e quindi cro ripeto se consideriamo la possibilità di arrivare al dollaro in questo momento a un una possibilità di guadagno del 40 per cento ripeto considerando anche quella che è la capitalizzazione attuale di cro sicuramente presente non è uno di quei progetti che può regalarci magari un per 10 però sicuramente è un progetto sul quale inserire eventualmente una quota di capitale che possa consentirci comunque di puntare a un più 30 un più 40 per cento effettivamente insomma se vediamo rispetto ai livelli e livelli comunque anche di di settembre in questo momento ha già fatto circa un per un per quattro quindi sicuramente la crescita di credo punto com e di cro nell'ultimo anno risulta già essere particolarmente significativa ripeto vediamo perché arriviamo ad un momento di ribasso importante delle credito e sappiamo che anche per la ciclicità del mondo delle credito valute è probabile che possiamo aspettarci una bull run che possa partire nelle prossime giornate spinta anche dal fatto che l'enorme massa di liquidità che c'è sui mercati finanziari potrebbe andare a pompare le quotazioni anche di progetti che sono magari meno speculativi rispetto ad altri ovviamente cro di critto.com non è paragonabile magari a meno token che escono molto spesso che hanno se vogliamo un rapporto volatilità guadagno sicuramente molto molto diverso però ripeto anche in un ambito di un portafoglio bilanciato di cripto valute cro può essere poi una opportunità che in questo momento mercato ci sta dando ovviamente ragazzi fatemi permettere come sempre che non sono diciamo consigli finanziari ma trattiamo sul canale ovviamente argomenti come sempre riguardo critto valute valute digitali così per discuterne appunto tra chi è interessato a questa tipologia poi di argomenti per avere spunti poi ognuno di voi come sempre fa le proprie considerazioni per investire i propri risparmi ovviamente ragazzi come sempre vi chiedo di farmi sapere insomma cosa ne pensate intanto di questo progetto cosa ne pensate di quanto abbiamo detto nel video vi chiedo di scrivermelo qui sotto nei commenti così poi ne possiamo discutere nella prossima giornata rispondendo appunto ai commenti ovviamente come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale per così avere sempre le notifiche dei prossimi contenuti che cariceremo sul canale e ovviamente vi chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo youtube per il video di oggi ragazzi è sufficiente così e come sempre ci riaggiorniamo nelle prossime giornate sempre sul canale con i prossimi video per quanto riguarda le criptovalute ciao ciao e a presto